Una tragedia che ha lasciato un'intera città impietrita e senza parole. Barletta questa mattina aveva ancora nell'aria il suono triste delle ambulanze che ieri sera, poco dopo le 21, sono accorse in via Milano nel tentativo di salvare la vita di un giovane di soli 16 anni, colpito da un treno mentre camminava in una zona interdetta al pubblico, fiancheggiando pericolosamente i binari della ferrovia. Forse non era la prima volta che insieme ai due amici che erano con lui, il ragazzo superava le barriere abbassate del passaggio a livello e costeggiando il muro divisorio raggiungeva la stazione ferroviaria di piazza Conte Duca. Era il modo per accorciare il normale percorso che da via Milano avrebbe portato alla stessa destinazione ma allungando di qualche metro. Secondo una prima ricostruzione i tre giovani stavano camminando parallelamente ai binari quando avrebbero incontrato un ostacolo durante il loro percorso. I due ragazzi che accompagnavano la vittima avrebbero aggirato l'imprevisto accostandosi al muro divisorio. Il più sfortunato dei tre lo avrebbe invece fatto allargandosi verso il lato dei binari sui quali in quel momento era in arrivo un Eurostar frecciabianca. Il trino viaggiava a una velocità di circa 90 chilometri orari ed è bastato che sfiorasse appena il ragazzo per provocargli un colpo mortale alla nuca e lasciando praticamente in liso il resto del corpo. I due amici che erano con lui prima di essere portati in ospedale in stato di sciocca hanno chiamato immediatamente i soccorsi ma purtroppo per il loro compagno non c'era più nulla da fare. Sul posto per i rilivi del caso sono intervenuti la pulizia locale oltre ai carabinieri e agli uomini della scientifica. Poi c'è stato spazio solo per il dolore degli amici e dei parenti insieme all'incredulità delle decine di persone che ieri sera hanno affollato il passaggio a livello di via Milano. A spezzarsi è stata la vita di un ragazzo con la testa sulle spalle di famiglia per bene e non avvezzo a bravate di alcun tipo, ripetevano ieri tutti quelli che lo avevano conosciuto. Parole che non serviranno a lenire un dolore insuperabile.